Se siamo divisi non possiamo dare una testimonianza convincente. Papa Benedetto XVI all'udienza generale parla della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. È una grande sfida per la nuova evangelizzazione, affermato è proprio la mancanza di unità e impedisce un annuncio più efficace del Vangelo perché distrugge o mette in pericolo la nostra credibilità.